Allora, stiamo per liberare tutte le rondini in anellate ieri sera, che sono state oltre 300. Ora stiamo attendo le scatole che le contengono nella posizione più idonea alla liberazione, cioè quella che consente alla scatola di tenere lo sportellino aperto e di far uscire le rondini in stormo, in modo che in maniera compatta si allontanano dall'area. Tra pochi istanti toglierò tutto il tempo in posizione. Noi mi gradiamo e tu?